Consigliera, era impossibile a livello logistico riaprire le scuole, cioè le seconde e terze medie in così poco tempo? Anche questa è la problematica principale? Sì, anche questa è la problematica, a parte per la decisione che approvo del sindaco e dell'assessore Core, ma logisticamente domani riaprire le seconde e le terze. C'era bisogno un attimino di riorganizzarsi, anche i dirigenti, gli insegnanti e i genitori dovevano riorganizzarsi per riportare i figli a scuola. La cosa che mi viene da dire veramente è questa, non ci può essere una zona grigia per la scuola, bisogna avere la sicurezza, bisogna che ci sia chiarezza, perché con la scuola non si scherza. La paura era anche che si riaprisse e dopo magari arrivasse un'ulteriore disposizione per rifiudere, rientrando in zona rossa. Certo, ed è per questo che bisogna prendere le decisioni quando servono, perché ci doveva essere una sicurezza amministrativa e anche per le presidi per poterli aprire. Voi avete ascoltato ovviamente le presidi? Anche, ma la decisione è stata presa dal sindaco. Secondo me era la decisione giusta da prendere, per il momento.